Se c'è una cosa che ho capito nei primi due mesi della mia esperienza in YouTube è che non lascerò mai più un video a metà. Infatti non avevo la più pallida idea di come ricollegarmi al video precedente sul modello AIDA senza far diventare questa una puntata didattica. Ma lo ribadisco, questo non è un corso online. Questo è il mio salotto dove mi fate compagnia una volta a settimana e dove provo a trasmettervi le mie esperienze sul campo. Poi però qualche giorno fa mi è arrivata l'illuminazione per fortuna, ero ad Eboli ed ero in visita da un cliente che ha uno store di grandi elettrodomestici e mentre ero in trattativa con lui sono rimasto letteralmente stregato da un signore che è entrato per acquistare una televisione e alternava la lettura dei cartellini sotto ogni tv per leggere le caratteristiche e il relativo prezzo e controllava invece dal suo cellulare le recensioni e le opinioni online. E subito mi sono ricordato di una ricerca di Google di qualche anno fa secondo cui 8 americani su 10 all'interno dei negozi prima di completare l'acquisto effettuano delle ricerche sul proprio smartphone. E a questo proposito pensate che Masys in accordo con Apple ha sviluppato un sistema che dialoga con i cellulari dei clienti quando sono all'interno dei propri magazzini e gli invia delle offerte ad hoc per rendere molto più accattivante la loro esperienza in store. E adesso prima di vedere come è cambiato il modello AIDA ho pensato di farvi una domanda e dopo esservi iscritti al canale vi chiedo anche di condividere il video se non risponderete nella maniera esatta. Siete pronti? Qual è il paese più popoloso del mondo? E vi lascio qualche secondo per rispondere a questa domanda mentre io mi suono la sigla. E vi lascio qualche secondo per rispondere a questa domanda Avete fatto? Dai, vi chiedo anche di scrivere magari nei commenti le vostre risposte. Comunque vi dico subito che non è la Cina con il suo miliardo e 400 milioni di abitanti. Il paese più popoloso del mondo è? Rullo di tamburi? Gli Stati Uniti di Facebook Sì perché nell'ultimo trimestre del 2019 esattamente contava 1 miliardo 660 milioni di utenti su base giornaliera ed è in continua crescita perché sta continuando a diffondersi proprio nei paesi asiatici e nell'area del Pacifico. Ma questo numero di utenti di Facebook sale a 2 miliardi e mezzo su base mensile. È pazzesco, vero? Ma da solo questo dato però non basta per farci capire cosa sta succedendo e così mi sono divertito un po' a sbirciare su internet e ho scoperto che le ricerche sugli aggiornamenti viene effettuata maggiormente su Twitter piuttosto che su piattaforme e su canali autorevoli di informazione come per esempio la CNN. E ho scoperto anche da un sondaggio commissionato dalla rivista Variety che YouTube ha assolutamente stravolto gli equilibri di Hollywood. Infatti tra gli adolescenti tra i 13 e 18 anni le celebrità di YouTube sono addirittura più famose e più popolari proprio delle star di Hollywood. E la stessa YouTube in collaborazione con il colosso dell'intrattenimento Sony ha dimostrato che il potere non appartiene più agli individui ma appartiene ai gruppi sociali. Infatti nel 2011 sulla scia della primavera araba il movimento Occupi ha quasi messo in ginocchio Wall Street e nel 2014 la rivista Times ha eletto come personaggio dell'anno non Barack Obama ma i combattenti dell'Ebola. Quindi in un contesto del genere in cui le forze orizzontali, inclusive e sociali hanno il sopravvento sulle forze verticali che sono esclusive e individualiste la comunità composta da consumatori e clienti è sempre più potente e è pronta ad alzare la voce e a condividere le proprie esperienze siano queste positive oppure negative. E questo fa sì che le conversazioni informali sui brand e sui prodotti siano addirittura più credibili delle campagne pubblicitarie. Questo perché le cerchie sociali sono diventate il fattore principale che orienta la scelta dei consumatori molto più del marketing e spesso anche più delle preferenze personali. E in tutto questo è proprio la globalizzazione che è il motore e il carburante di questa rivoluzione. La stessa innovazione da verticale, cioè dalle aziende al mercato è diventata orizzontale perché esso c'è il mercato che fornisce le idee e le aziende si limitano soltanto a commercializzarle. Per esempio oggi le compagnie di taxi oppure anche le catene di alberghi sono costrette a fronteggiare la concorrenza di aziende come Uber oppure Airbnb dove i servizi di trasporto e di alloggio vengono fornite dai privati. E infine la stessa fiducia dei clienti non è più verticale ma è diventata orizzontale. E infatti mentre prima le campagne pubblicitarie erano capaci di influenzare la scelta dei consumatori oggi invece i clienti preferiscono credere alle 4F che sono friends, families, fans e followers perché quasi tutti chiedono ormai dei consigli a dei perfetti sconosciuti sui social e li considerano addirittura più autorevoli rispetto ai pareri degli esperti. E questo è il motivo per cui stanno proliferando siti di recensioni come per esempio TripAdvisor. E quindi è bene che adesso le aziende non trattino più i clienti soltanto come un target ma è bene che li trattino come degli amici se vogliono conquistare la loro fiducia. Perciò la più grande rivoluzione della storia del marketing è proprio questa connettività universale e orizzontale tra le persone di tutto quanto il mondo. Ed è stata proprio questa connettività che ha fatto vincere Amazon contro le librerie tradizionali e a sconvolgere l'editoria libraria. Così come le piattaforme come Netflix hanno decretato la morte dei video noleggi e stanno mettendo in seria difficoltà anche le piattaforme televisive, terrestri e digitali. Ma perché tutto questo preambolo? Perché in realtà uno dei principali difetti del modello AIDA è che la valutazione del processo decisionale di acquisto termina proprio con l'acquisizione dell'offerta del prodotto. Mentre tutti quanti gli effetti successivi all'acquisto come la soddisfazione oppure l'insoddisfazione, la valutazione del cliente, la raccomandazione, gli acquisti ripetuti vengono quasi completamente ignorati. Il modello AIDA può essere rappresentato graficamente come un imbuto o funnel che rende evidente un aspetto essenziale del marketing gerarchico. Perché il numero dei clienti che entra nella fase successiva è in continua diminuizione proprio per effetto del processo decisionale di acquisto. E infatti si parla di purchase funnel. E visto che la connettività e la globalizzazione hanno modificato le scelte dei clienti e dei consumatori è bene prendere in considerazione anche altri fattori che oggi sono determinanti come per esempio la disponibilità, le aspettative sul prezzo, i consigli, la raccomandazione, la soddisfazione del cliente e non da ultimo bisogna ignorare l'aspetto emotivo della percezione del brand. E in questo ci vengono in aiuto anche le conoscenze acquisite nella ricerca emozionale che sono state trasferite anche nella vendita nel contesto del neuromarketing. Nel corso del tempo sono stati sviluppati diversi approcci basati sulla formula AIDA che estendono però il modello di base inserendo delle fasi aggiuntive che da una parte tengono in conto anche i social media e dall'altra sono orientate al dialogo con il cliente. Il primo di questi modelli è Hierarchy of Effects di Lavin e Stein e si basa sulla sequenza gerarchica di diversi effetti pubblicitari e suddivide il processo di acquisto in un totale di sei fasi che sono la consapevolezza, la conoscenza, la preferenza, la stima, la convinzione e l'acquisto. Sulla base poi della formula AIDA il ricercatore Russell Colley ha pubblicato la formula Dagmar. Anche questa è un acronimo del titolo della sua pubblicazione Defining Adversiting Goal e qualche altra cosa ma avete capito bene che io con l'inglese in realtà non ci vado molto d'accordo quindi ve lo dico in italiano definire gli obiettivi pubblicitari per la misurazione dei risultati. E anche questo è un modello a gerarchia di effetti dove riconosce però al messaggio pubblicitario non soltanto un effetto economico ma anche un compito comunicativo e si sviluppa nelle fasi della coscienza, della comprensione, della convinzione e dell'azione. Poi c'è il modello AIDAS che aggiunge alle quattro fasi principali del modello AIDA quindi attenzione, interesse, desiderio e azione anche la fase della soddisfazione del cliente dopo l'acquisto. Ma infine il modello più completo è forse il modello AIDA's Love dove in realtà vengono aggiunte sempre alle quattro fasi del modello AIDA anche le fasi della ricerca, del like o dislike, della condivisione e dell'amore o odio. Ciò che però tutti quanti i modelli gerarchici hanno in comune è che adattano la struttura di base del modello AIDA al processo di decisione di acquisto del cliente che è suddiviso in tre fasi fondamentali. Se vi ricordate, già l'altra volta ne parlavamo ed è la prima fase che è quella cognitiva, la fase affettiva e la fase comportamentale. Da questo capiamo perciò che una buona pubblicità deve tenere conto di ognuna di queste tre fasi che in realtà sono alla base del comportamento di ogni individuo. E detto questo, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Ci vediamo lunedì prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e accendete la campanella. Ciao! Scrivetevi al canale